ciao stai organizzando un aperitivo con gli amici una cosa sfiziosa hai preparato un bel piatto di salumi con della bresaola del prosciutto crudo del salame piccante in abbinamento a alcuni formaggi particolari delle mozzarelline con le olive della grana che va sempre bene piace un po a tutti con abbinate anche delle belle bruschette al pomodoro qualche pinzimonio per chi è un pochino più attento alla linea o delle tartine al salmone insomma il cibo è tutto perfetto ma non hai idea di che prosecco abbinare ti aiuto io ecco qua ti presento maccari doc treviso extra dry prodotto da un'azienda sita inconegliano che lavora in questo settore da oltre 120 anni ha prodotto questo vino molto delicato dalla bollicina non invasiva ideale per l'aperitivo con questi sentori un po di mela golden di frutta fresca o di fiori da caccia e quindi risaltano il gusto del cibo ed è secondo me un ottimo abbinamento che può piacere sia uomini che donne per cui può toglierti dall'impasto di trovare un vino un prosecco ideale per l'aperitivo se vuoi riceverlo direttamente a casa tua puoi cliccare sul bottone qui di fianco e acquistarlo lo riceverai nel più breve tempo possibile ciao grazie